No alla sistemazione delle barriere antirumore lungo la tratta ferrata che attraversa la città di Roseto, l'amministrazione comunale pronta la battaglia contro la società di Trenitalia che ha messo in campo circa 56 milioni di euro per realizzare una serie di barriere per abbattere di oltre il 65% i decibel generati dal passaggio dei convogli. L'assessore Nicola Petrini che alla delega all'ambiente ritiene il progetto presentato dalle ferrovie improponibile per Roseto. Io prendo spunto anche di una risoluzione fatta in consiglio comunale per dire che sono contrarissimo a quest'opera perché questa è un'opera di un impatto madornale che dividerebbe la città di Roseto in due la parte collinare e la parte del mare. Non è una cosa fattibile perché chi abita vicino alla ferrovia ormai dopo tanti anni si è abituato. A Roseto gli amministratori sono pronti quindi ad un confronto con i dirigenti di Trenitalia per far cambiare idea, magari anche trovando delle soluzioni alternative. 56 milioni di euro non sono pochi ma probabilmente potrebbero essere utilizzati per altre opere. Potrebbero essere investiti magari spostando la tratta ferroviaria verso la collina, però fare un'opera, un'opera di una barriera che si parla di quota zero partendo dalla quota binario con un muro in cemento d'armato a due metri con delle barriere antirumore che vanno dai quattro metri agli otto metri quindi per un totale all'incirca di dieci metri quindi sarebbe un qualche cosa magari neppure da pensare, neppure da pensare. Io penso che il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, anche la nuova aggiunta regionale, dovrebbero fare qualche cosa per bloccare immediatamente questa iniziativa. Noi come Comune di Roseto secondo me per quello che mi riguarda farò il possibile per non far realizzare quest'opera. È impossibile uno che apre una finestra e si trova una barriera di dieci metri davanti per il rumore, per il rumore che ormai dopo tanti anni, ripeto, chi abita vicino a ferroviaria non lo sente più.